benvenuti a questo nuovo appuntamento con salva un amico siamo alla struttura zofila empa di sogno siamo qui con tiziana e con dado qual è la sua storia allora dado è un cagnolino che ha quattro anni arriva anche lui dal sud è molto esuberante sembrerebbe un cucciolo non invece ha quattro anni si è molto ha un carattere molto vivace esatto quindi un giocherellone come avere un cucciolo in casa esatto più o meno si è bravo gioco un sacco bravo in passeggiata al guinzaglio in pettorina ama le coccole come si può vedere sì ecco la famiglia ideale per lui qual è è un cane molto attivo molto vivace quindi ha bisogno di una famiglia attiva che lo porti fuori in passeggiata che lo coccoli un sacco che dia tutte le attenzioni che lui richiede ecco esatto è un cane che richiede tante attenzioni come si può rapportare ad esempio in una famiglia con bambini direi bene perché lui proprio un coccolone cerca proprio il contatto umano ci sta e invece con nel rapporto con gli altri animali è bravo interagisce bene con i cagnolini con le femmine quindi è bravo in passeggiata da quanto tempo è qui da qua da un mese e mezzo anche lui quindi poco sta imparando tanto sta seguendo un percorso si è seguito dagli educatori cinofili però è bravo è già arrivato che era bravo vero ed è arrivato insieme ad altri amici a un'altra un'altra amica che adesso presenteremo anche lei molto carina anche lei ecco un'altra amica si mi ha detto è sua sorella non si sa insomma si chiama dolly insieme sono arrivati insieme si adorano arrivando allo stesso posto per cui probabilmente sono anche cresciute l'insieme ecco sono adottabili però sono adottabili si ciascuno ok singolarmente l'adozione di coppia è difficile è molto difficile però però succede che c'è qualcuno che voglia un'adozione di coppia a maggior ragione i loro due che si conoscono che hanno vissuto assieme ci potrebbe stare sarebbe una bella cosa bene speriamo dunque che dado trovi presto una famiglia chiunque interessato può rivolgersi alla struttura zofila e un pa di sondrio per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile empa di montagna in valtellina al numero 349 554 1691 o alla mail sondrio chiocciola empa.org Grazie a tutti i nostri spettatori